Entriamo in questo ingresso misterioso Se tu non possa parcare la soglia con il mio livello attuale Ok La serie tv di Persona 3 I film? Allora Ah ok parli di Persona Non mi ricordo come si chiama L'abbiamo vista insieme qua in live No i film di Persona 3 sono molto belli Se non li hai visti Chirito Andiamo a chiuso le missioni di Demetra? Ui si Si Abbiamo fatto parecchie missioni secondarie Cioè se noi facciamo... Ho capito Ma Chiyoda Non mi pare di vedere nuove missioni Quella lì è quella lì delle perle Shinagawa Non mi pare di vedere nuove missioni Ha minato Ce n'è una Ah vabbè che sarà Battilo stronzo Giochi da PS5? No da Switch Treneti solo è... Ci sono fumati qualcosa? È mediocre Andiamo ad abbattere Logan Paul dopo Eh mi sa che adesso andiamo infatti ad abbattere Logan Paul Mio che bello è soddisfazione Ammazzare di botte Logan Paul Ciao Ragdoll Eh la prima mappa aveva un fascino che... Adesso proprio dovevo andare Anche lui se non sbaglia Debole adagi Sì ma te l'ho già battuto Sì ma te l'ho già battuto I specialist sono scivolato Perché ovviamente molto lì Cioè non mi salgo in tempo E avrei stato tornato su un'asta Da microfono Ed mi stava per entrare E' un buco Bene Bene Poi da un po' L'ho messo a Preston Mini Insieme a Gianni in Oxford Questo anno Perché Io non capisco Non me la devo adagi Blocza Ma se mi dici che finirà male Ma pure Non Mario Questo punto è degolazio Sì è degolazio Ok Ho visto Fox Machina Italiano Non volevo troppo Fatti complimenti per l'adattamento Fatti un ottimo lavoro Grazie Eeeh Che debuffer Mi volta Mi volta Cosa consiste questo gioco? E' un JRPG dove ammazzi gli D Non ha nemmeno il senso sprecare il magazzino Ciao Nico Oh sigillo Fucchiammi le palle No 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 Die for me Bitch Lo so Kirito Gloria L Senza di Komokuten Qui abbiamo fatto tutte le missioni Qui abbiamo fatto tutte le No Ce n'è una lì Ah e sarà l'ultimo guardiano che ci manca Grazie a tutti c'è l'agampo c'è l'agampo Mi è comata Prendiamoci sta coccatrice Oh Sono a un livello infinito E comunque la coccatrice mi rompe i coglioni Grazie Si ti è Si ti è Una valanga una valanga Non ho già completo E che butto Per far spazio a coccatrice Stiamo così va Devo usare la potenza Nel coso L Chi cazzo è la cornecchia di te compagnia Iatagarasu Doviamo un po' più di spazio Siamo appena c'è sta stronza Beh è tornato Vapor Largo largo Materiale caliente Ciao necomata E non c'è un'altra trice Ciao Dio Tutto bene grazie Qui c'è 70 Eccolo Allora 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 Zotten Prima esorire i dialoghi di migyazzo Chi cazzo è il migyazzo Oh Debole Anzan Spazio è il migyazzo Spazio è la compagnia Mentre mi crucio Sulle ombre Del tatuaggio Che dovrò fare Impensibile Beh mi raccomando Penso che fai un buon lavoro Mi raccomando Spermi Fino quando stai Poi o meno fino a mezzanotte Saru kajia Saru kajia Charge E magazzui Secondo me se facciamo cosa Lo gonfiamo Se usiamo magazzui Lo gonfiamo Questo video vi spieghi 10.000 anni Che si sbaglia Molto prima Come se poi Non ti riconoscevo Per l'appigiatura Eh Cambio Ora comunque Nada Vale Sutra Ah La ragazza Quella chi è la sciappa verde Ah ma dai Mi ricordo Come nemmeno fosse qua Si schiantato male Cloudcast Ok ho battuto Tutti Tutti e quattro Loro E mo Sì perché no Perché no Harley Quinn Sì sì L'ho gonfiato Come una zampogna Andiamo a prendere Cocatrice La stronza Sempre se è ricomparsa Sembra di No Sembra non sia ancora Ricomparsa C'è un'ecomata? Ma invece sì È quello là Basiliscono la cocatrice Ciao Yoru Andiamo al villaggio Delle fattine Non c'è di certo Allora Non ci sono Titania Oberon Sì qui Quanto c'è un signore a caso Signore a caso Signore a caso Cazzo Che sia questa Che sia questa qua Qual villaggio Delle fattere Non mi pare ci sia Nessuno L'importante Con cui parlare Ah eccola qua Non ho la risposta Di fronte agli occhi E non se ne abbeda Anche che se restare qui Finchè non sarà tutto finito Eh Tutto bene Sì sì ho già parlato con Isid E basta Ok Dove posso trovare L'amuleto dei tre Ragnetti Su Hollow Knight All'interno di una Stanza segreta Anido scuro Ah devo andare da Isid Adesso Ok Fusione dei demoni Fusione speciale Per fare lei Mi serve ancora Ah Cthulen Per fare Surt Servono Flauros E Valkyria Mentre invece per fare lei Manca solo più L'uomo tigre Ma so dove prenderlo L'uomo tigre Chi serviva Basilisco? O forse l'avevo già preso Basilisco per farlo Ah Odino Valkyria Sempre E Loki Calzante Per fare La merda Ok adesso possiamo fare Odino Possiamo fare Vazuki Che cazzo sei Ah nel caso volessi rifondarlo Ma ma ce l'ho già Ma lo so chi è Beh se volessimo Usare Basilisco Per fondere qualcosa Ce l'ho di sto cazzo Basilisco Loop Garu Non teniamo a me Il maniera Che non abbiamo Bene Sono della peggia Eh certo Perché io sacrifico Valkyria Per ottenere Lilith Cioè per ottenere Cioè sacrifico Lilith Per ottenere Valkyria Piuttosto lo rimuovo lui Tipo se io volessi utilizzare Senza andare a Cacciarmeli Come uno scemo Queen Long Posso usare Melmanera Per ottenerlo No Horus Anubi Silky Valkyria Black Frost E Melmanera No E otteniamo Valkyria Exoprime Nuovi pick up Come nuovo trailer Di Ghostwire Tokyo Ok Abbiamo Valkyria Oh Ahahahahha Flaurus? Certo, perché io ti do la mia roba più grossa per fare Flaurus? Non si riesce mai in Elcia. Ancora meno costoso? Chi è? Belfi, grazie per il ventinovesimo. Buonasera a te. E' parvato il bioco. Giocherai Stray? Non lo so, non credo. Non credo di Stranger of Paradise. Che culo, Cerny. Pensa, me ne frega così poco che pensavo fosse già uscito Stranger of Paradise. Ho bisogno di chiudere il caos. Sì, lo so che ora posso fare una fusione speciale. Possiamo fare Surth? Chaos. Se andate, ma devo riempire la segretta e ci metterò sei ore perché sto bocchino è uscito male. Ok, ce l'ho fatto. Altro telere di Forspoken che sappiamo che era inviato. Non lo so, ora possiamo fare Surth. E tu? Tu sei nuovo? Ma tu sei il merda! Per il merda mi serve Raja Naga e sto schifo. Ok. Ma tu sei il merda! Tu sei il merda! Ma tu sei il merda! E tu sei il merda! Togliamo unghie nella follia Mettiamo stoicismo Anti-elettricità Crono fisico Drago nero Drago di elettricità Yes Esatto è proprio il zio greggio Fondo potente No Manca il tigrotto Pose Non te lo voglio dare Mannaggia Mannaggia assurta Mannaggia assurta La mia chinchia Via Dio berserker Gundam Revolution Certo Lo so Ora posso fare gli star Ancora posso fare gli star Ah certo perché c'è tutta sta gente dal coso No No ma c'è già zio Dainzionga non ne serve Mudun fa meno tre Megiddo non ne vale la pena Però Deca ha già tanta tanta roba Oh carino 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 Cerny Ok Dovremmo fare anche Zio greggio ma Quale cadavre Vendiamo la roba che abbiamo Gigodash Non fa king arena Con i demoni E ora siamo Poveri Andiamo a parlare con Iside Iside che era Qua a sinistra Qua è questa parte Ah no è l'Iside Tipo qua Pixie Hi Pixie Che cazzo stava Iside Mi ricordo Ciao Nekomata Tu non mi pare sia Natida Il porting del picchiaduro di Jojo Va bene Scusa Ciao Nekomata No quello è Valkyrie Che cazzo sta Iside Era qua A meno che Non dica Iside Che non è Non sta più qua Ma sta Fanculo Dove c'era il La cosa di Di Consu Ma Iside Era tipo qua Era qua Vicina È Iside Da Consu E' 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 Fanculo Bimbo Coso Bimbo Merda Vediamo se Oberon ha qualcosa di nuovo Vado a dirmi Deku furostu Bene Track to Yumi Non c'è I miei penneri Nel Giappone Che devo dare Ah si 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 Mi pare di ricordarlo Era Ci Yoda Era qua Infatti c'è una missione Lì Deku furostu E' un po' affanculo Mi devo fare tutta la strada T'ho visto, t'ho visto, t'ho visto Bottiglia molto capiente T'ho visto, t'ho visto T'ho visto, t'ho visto Oh-oh Ah, fuck Oh-oh-oh 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 Ma questo vuol dire che devo ammazzare Miyazu? Il villaggio delle fate Ok E' certo, Jerry, è tutto lì Quattro stronzi siamo E Skyrim ha allargato La cosa era debole Consu? Perché dovremmo sfidare di nuovo Consu No, c'era No me lo dico Debole a ghiaccio Bello che casualmente Tu gli devi trovare una roba Tra i compagni di scuola di Aaron Eh? Incredibile, eh? Debole a ghiaccio E allora sostituiamo Alice con Yoshitsune Teniamo Idun Aspetta Thor, per caso Drago di ghiaccio Eh, sai che quasi quasi togliere Seibel La metterai troppo Dove? Ah Poi in fondo Non puoi farmi venire in mente Certe battute scuola Che se no Poi le devo dire Non so Siamo pronti Eh, ti avvicini Dai, Consu Oh no La ledge The good guy Damn Ma hai i pixi lì Che origlia Ma hai i pixi lì Eccoci! Andiamo! Panubi! Uuuuuh! Uuuuuh! Ma così? Poco... Bariamo? Come? Mingo! Bloc... Cura... Sì, vabbè, ma la prima era è stato! C'è un paio di testa... Resist... Ok, Anubi... Debole a... Se noi ci mettiamo sei anni qua! Direi che per oggi... A Consu... Non c'ho veramente sbattamista... Che prima andiamo a rompere il culo a... A coso? A... Logan Paul... Poi veniamo da Consu... Facciamo tutto il discorso... Bravo, sei diventato Amorra... Quello che vuoi! Fino ad allora non rompermi le parole!